Sicuramente la Sella Mani si rappresenta un punto di riferimento per la pubblica amministrazione di Taranto per gli eventi dell'estate tarantina, un evento che accompagna una festa religiosa come una festa cittadina, vicino a un settore importante come la miticultura, la pesca, settore che ha passato veramente momenti difficili, che in questo ultimo periodo sicuramente si sta rialzando da una fase che è stata sicuramente negativa. Lanciando anche uno dei prodotti come la cozza tarantina che ha avuto sicuramente attacchi impropri poiché fosse uno dei prodotti a livello nazionale più controllato attraverso le strutture ASL. Quindi sicuro dal punto di vista igienico anche di qualità come nell'ultimo periodo risulta nell'aumento della sua commercializzazione. Una festa che si realizza in un momento molto difficile, un momento di crisi come diceva il signor Dandria, ma la presenza dei pescatori oltre ad essere numerosa dal punto di vista quantitativo, oserei dire che è importante dal punto di vista qualitativo perché forse è l'ultimo settore che veramente riesce a tenere un collegamento con quelle che sono le radici e la storia di questa città. Vorrei inoltre dire che in questo momento particolare deve essere un messaggio anche di speranza, oltre che un momento importante dal punto di vista sociale e religioso. Devo ringraziare il Comune di Taranto, soprattutto la Confcommercio che come ogni anno ci dà una mano per quanto riguarda la realizzazione della sagra di cornice a questa manifestazione. è una serie anche di gente che con uno spirito di collaborazione, parlo dell'indotto che è appunto intorno alla pesca e alla mitricoltura, con un particolare spirito di collaborazione e quindi senza particolari interessi, collabora alla realizzazione dei festeggiamenti anche nelle piccole cose. Questo è importante perché significa che c'è un collante al di là di quelli che sono gli interessi economici. Grazie.